Ciao amici di Tariato Games, buongiorno, sabato 6 agosto, siete in ferie, siete in vacanza, siete andati al mare, in montagna, al lago, all'estero, fatemi sapere dove siete, cosa fate, o se invece siete in città, magari siete in vacanza e non siete andati in ferie. Io ho già dato il mio, purtroppo, a luglio, poi mi prenderò qualche altro giorno dopo ferragosto, ma il più l'ho fatto, ahimè. Comunque, c'è da dire che ad agosto non stanno mancando i contenuti per fare i famosi video del mattino, non ci sono grandissime cose, ma c'è sempre qualche cosina, tanto che male che vada fino a martedì sono coperto, ci sono altre indiscrezioni, altre analisi, un video che sto rinviando perché è un evergreen ed è stato realizzato con la collaborazione del Tattico di PES, se non ci saranno altre novità più stringenti, più legate all'attualità, lo farò martedì o altrimenti lo sposterò ancora. Quindi, per il momento, i video del mattino non mancheranno. Poi, io vi ricordo sempre i 4G, 4 grazie che vi do se, ah, vi iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto, perché magari ricevete le notifiche da Facebook o da Telegram, o perché conoscete da poco il canale. Ci fate un grande favore se vi iscrivete al canale e se magari attivate le notifiche anche per la zona community, dove ieri, veramente rapidissimamente, vi ho segnalato il nuovo video gameplay di UFL che si concentrava sui portieri e sui tiri da fuori. Quindi, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, se poi ci volete supportare anche materialmente e non solo con un'iscrizione che ovviamente non costa nulla, potete anche abbonarvi, potete mandare un'offerta al canale, una tantum, c'è il tasto, oppure potete fare i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione che trovate all'inizio della descrizione del video, a voi non costa un centesimo di più e ci supportate in maniera proprio netta. L'importante è cliccare su quel link e poi quello che comprate su Amazon sono affari vostri, qualsiasi acquisto va bene. Grazie, 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 grazie a tutti per quello che potrete o vorrete fare. Allora, oggi parliamo dei giocatori che arriveranno lunedì con questo pool. Dopo l'Inghilterra, dopo l'Italia, che ci ha dato più di un patema d'animo a fine luglio con i chiusure server, l'aggiornamento delle Breakout Stars, che poi si è rivelato un aggiornamento farlocco, nel senso che erano i Breakstars volume 1, senza i giocatori italiani, la settimana prossima, lunedì 8 agosto, stando alle indiscrezioni di Pestmaster e ad altre app, un ringraziamento a Luke Mattaini che mi aveva mandato un'immagine prima che uscissero su Pestmasters nel caso in cui fosse uscito un Pestmaster, arriva sempre dopo ma arriva e io mi fido molto di questo sito, ci saranno i giocatori della Liga Spagnola. Come possiamo vedere ci sono due, soliti 11 giocatori, si parte da Bonu e Fekir a 87, anche Diego Carlos a 87, tutti i giocatori 5 stelle però, Jordi Alba a 88, Joao Felix a 88, Kroos a 89, Sergio Busquets a 89, Eder Militao anche lui a 89 e poi si sale ancora con Vinicius Junior a 90, Benzema 91, Casemiro 91. Casemiro io vi assicuro che come mediano collante mi sta piacendo tantissimo, nel nuovo 4-3-3 vediamo che qui ha aggression 90 a livello 1, qui purtroppo non c'è scritto quanti livelli crescerà, perché probabilmente è un'informazione che non ha Pestmaster, però diciamo che parte da 90 in aggressione, defending 84 in generale, taking 85, contatto fisico 86, stamina 86, questa versione soprattutto per il possesso palla va bene 80, ma anche negli altri moduli, diciamo negli altri stili, ha 74, 75, 70 e 74, insomma va bene un po' per tutti. Benzema non ha bisogno di presentazioni, comunque parte da 91 in questa versione, il suo punto forte in questo caso è la finalizzazione 85, controllo palla 87, colpo di testo 84, anche lui possesso palla 80, tutte le altre versioni, tutti gli altri stili di gioco, scusate, a 70 e quindi assolutamente non è affatto male. C'è poi Vinicius Junior a 90, un giocatore che a me piace tantissimo, non lo sto facendo giocare solamente perché c'è Son, perché c'è Foden, che come giocatore entrante a partita iniziata mi piace molto, comunque lui ha accelerazione 91, velocità 87, dribbling 87, dribbling in generale 82, insomma un'ottima versione anche lui, anche lui possesso palla 80, e tutti gli altri stili di gioco 70, quindi un giocatore che io consiglio vivamente, se vi serve un attaccante sinistro davvero veloce e forte, poi ogni tanto si perde nella finalizzazione, almeno la versione che ho io. Si scende poi a Dermilitao, altro ottimo difensore, che a me va molto bene anche come laterale destro, qui ha il colpo di testa 84, aggressività 86, velocità 80, stamina 82, anche lui è un giocatore da possesso palla 80, e tutti gli altri stili di gioco 70, parte comunque da 89, diciamo che dietro i vari Varane, Koulibaly, Van Dijk, eccetera, Edermilitao è subito un passo dietro, c'è Sergio Buschezza 89, ha possesso setà 90, veramente impressionante, ottimo per i passaggi, 87 l'off pass e l'off pass 85, anche lui possesso palla 80, e tutti gli altri stili di gioco 70. Poi andiamo a vedere Cross, che è l'unico giocatore che potrebbe interessarmi, ma mi sa che questo pool spagnolo non lo giro, perché i giocatori principali ce l'ho già, lui ha un ottimo passaggio basso 90, lofty pass 86, controllo da palla 88, potenza di tiro 82, anche lui è molto ben progettato per il possesso palla 80, e tutti gli altri stili di gioco 70. Poi andiamo a vedere Joao Felix, molto bene nel dribbling 82, controllo palla 83, dribbling 83, accelerazione 81, lui va molto bene per il contrattacco, long pal counter 80, e invece gli altri stili di gioco 70, gioca nell'Atletico Madrid, ovviamente c'è Simeone, e quindi è così. Poi andiamo a vedere infine Jordi Alba, 88, controllo palla 80, velocità 86, accelerazione 83, stamina 81, lofty pass 83, anche lui gioca nel Barcellona. Possesso palla, chissà quando vedremo la versione di Lewandowski con la maglia del Barcellona, staremo un po' a vedere, e poi comunque adesso non vi vado a vedere Diego Carlos, Fekir e Bonuc, perché dai, sono giocatori i più bassi del pool. Bene, questo per oggi è tutto, vi volevo mostrare questo pool, che se comunque avete bisogno di questi 4-5 giocatori, può essere un buon modo, diciamo, di prenderli con 300 monete, o con 100 monete se volete fare solo un giro, diciamo che ci sono 5 giocatori del Real Madrid, tutti molto interessanti, secondo la mia opinione, anche se poi dipende dalle vostre esigenze tattiche, di modulo, di stile di gioco e tutto quanto. Però, sicuramente Benzema, Casemiro, Vinicius Junior, Eder Militao, io ci vedo la squadra, li ho utilizzati spesso, Casemiro è adesso titolarissimo come mediano, e devo dire che mi sta dando tantissime soddisfazioni, aiuta tantissimo la difesa, e io ve lo consiglio vivamente, se cercate un collante, sostanzialmente è il miglior mediano collante, per quello stile di gioco che ha, indubbiamente è il migliore. Va bene ragazzi, io vi auguro un buon fine settimana, buone vacanze, buone ferie, voglio sapere davvero cosa farete in questo mese di agosto, e soprattutto nelle settimane di ferragosto, vi do appuntamento a stasera per altre partite del campionato, e poi domani mattina, con altre indiscrezioni molto importanti sui Football 2022, sul futuro prossimo, con nuove indiscrezioni che ho recepito in giro. Grazie per l'attenzione, e al prossimo video. Ciao! Ciao!